Ciao a tutti, eccomi tornata con una nuova puntata della Makeup Collection nella scorsa puntata vi lascio qui il link e abbiamo parlato di BB Cream e fondotinta quindi oggi vorrei farvi vedere i miei corruttori sono pochini in confronto diciamo anche all'infondotinta ma diciamo pochi ma buoni inizio subito da uno dei più chiacchierati che è il correttore nascondino di Neve Cosmetics io ho la tonalità 02 Medium e il costo è intorno agli 8,90€ e io l'ho presa in offerta appena uscì infatti come vedete ha un bel sulchetto all'interno e ho sentito pareri molto molto discordanti su questo correttore chi lo odia, chi lo ama io vi dirò, a me sinceramente non dispiace per nulla è un correttore abbastanza buono io quando erano usciti ero partita per prendere quello nella colorazione guava se non sbaglio scusate che era proprio quello adatto alle occhiaie solo che swatchandolo in bioprofumeria mi sono accorta che era davvero troppo troppo aranciato questo invece vi dirò, ha comunque una punta di arancione all'interno e io mi ceravo davvero bene per le occhiaie è un correttore che consiglio a chi non ha occhiaie troppo troppo marcate non ha un contorno occhi eccessivamente secco e pieno di rughette e segni di espressioni perché comunque stando ha una formula cream to powder quindi insomma è cremoso questa è la colorazione è cremoso ma una volta che lo stando diventa polvere e ovviamente stando una polvere e non una crema tende di più ad andare a segnare la zona però a me sinceramente problemi non me ne dà per me ha un'ottima durata e mi ci trovo davvero bene anche se ovviamente non è un correttore che uso quando ho occhiaie molto molto marcate e certo non è un correttore nemmeno che consiglio a donne mature perché avendo magari qualche segno in più di espressione lo va ancora di più ad evidenziare ma per il resto lo trovo un buon correttore il mio voto è 7,5 altro correttore degno di nota ormai quasi del tutto terminato tra l'altro si è rotto il tappino lo sto proprio scavando intorno è questo correttore Earth che si chiama Cover Everything Concealer anche questa è la colorazione medium ed è un correttore davvero davvero buono economico perché viene intorno ai 4 euro pastosino appunto giusto e è perfetto da stendere con andiamo a vedere con il pennellino proprio eccolo sempre della Earth il Concealer Brass è davvero perfetto da stendere con questo ma anche semplicemente picchiettandolo sotto l'occhiaie e l'unico consiglio è di stenderlo davvero davvero bene sfumarlo bene e fissarlo con una cipria perché stando un po' pastosino se non viene fissato o sfumato bene tende un po' ad andare nelle pieghe ma vi giuro che copre di tutto dai brufoli alle occhiaie molto marcate è davvero un ottimo ottimo correttore che sul sito F non trovo più non so se è andato fuori produzione o se è semplicemente non disponibile al momento peccato per l'inci io sto tentando di usare i prodotti bio e almeno per la base perché mi accorgo soprattutto per il correttore che mi si formano i grani di miglio sotto l'occhi ed è una cosa che odio e quindi adesso è finito sono contenta ma da una parte mi dispiace perché è davvero un buon correttore e il mio voto per lui è 8 altro correttore è questo della Kiko in Natural Concealer questa è la colorazione 02 questo correttore si presenta così con l'applicatore a spugnettine insomma tipo quello del gloss e è molto cremosino si sfuma bene è questo beciolino le occhiaie non le copre molto ma è molto luminoso e quindi illumina bene la zona infatti spesso lo utilizzo sopra un altro correttore più coprente e va abbastanza bene per le piccole imperfezioni e discromie però diciamo non è un correttore che mi fa impazzire sarà anche perché io comunque specialmente d'inverno ho occhiaie molto marcate e quindi servono correttori più strong però un 6 lo do sicuramente altro correttore è questo qui che ho trovato la Mini Sights della Lancome ed è un correttore a lunga tenuta e il numero è 02 Beige Subble non so se si vede ed era nel kit con il Rimmel e la matita nera è un correttore davvero buono purtroppo questa è la colorazione è perfetta per me dico purtroppo perché costa costa tanto non so quanto ma penso intorno ai 25-30 euro e secondo me per un correttore è davvero troppo però non escludo magari di provarlo in seguito magari anche la anche ora prima finirò ovviamente questo e se mi convince magari al 100% per l'inverno potrebbe essere un acquisto anche se come ho detto preferisco molto di più prodotti bio ma comunque questo gli do un 8 e mi ci trovo davvero bene altro correttore è questo della New York Color o Nick ed è il Cover Stick e nella colorazione green è appunto un correttore verde che utilizzo proprio quando ho i brufolozzi quelli brutti è molto molto cremoso ed è proprio verde e questo è un buon correttore l'unico mio consiglio è che va sfumato davvero davvero molto molto bene perché come vedete rimane se no l'alone verde e sopra va passato un correttore della nostra tonalità perché altrimenti si vede insomma però effettivamente per diciamo brufoli o comunque macchie rosse è davvero davvero un buon correttore che gli do 7 anche perché tra l'altro viene solamente mi sembra intorno ai 2,93 euro passiamo a a 2 correttori bio oltre diciamo quello di neve uno è questo della Benecos il Natural Concealer che sinceramente non ha la tonalità e la light non mi sento se smando molto innanzitutto per l'odore perché odore di vernice mi chiedo come sia possibile questa cosa è una cosa proprio che mi manda i nervi il colore diciamo potrebbe anche andare bene per la mia carnagione perché è molto chiaro come vedete è molto luminoso infatti io anche questo lo uso sopra altri correttori tipo quello della Kiko più pastosini in modo che questo va ad illuminare un po' la zona oltretutto non si sfuma bene perché rimane molto non cremoso ma duretto al tatto non so come spiegarvelo però vedete non si sfuma bene l'ho lasciato quanto adesso sulla mano 3 secondi e rimane la chiazza infatti va messo e sfumato immediatamente perché tende a seccarsi sinceramente l'ho pagato intorno ai 4 euro ma non mi sta piacendo molto e gli do un 5 certo non lo ricompro mentre un altro correttore bio che mi sta piacendo tantissimo è questo della Sobio nella colorazione beige clair anche questo assomiglia molto alla consistenza a quello di elf perché è molto passosino però più beige e meno aranciato rispetto all'altro ma comunque riesce a coprire molto molto bene le occhiaie anche questo lo applico con il pennellino che vi ho fatto vedere prima e poi lo sfumo con le dita e essendo comunque molto passosino anche questo va sfumato bene e prestato poi magari con una cipria per avere una maggiore durata questo viene intorno alle 10-15 euro quindi sicuramente è un po' più costoso ma li vale davvero tutti perché copre benissimo sia l'occhiaio sia le imperfezioni e mi ci trovo davvero bene il mio voto per lui è 8 l'ultima è questa palettina di correttori presa nella profumeria Marianna no Douglas e si chiama Hide Hit è carinissima all'interno ha due applicatori in spugnetta e ha quattro tonalità di correttori con sopra che non so quanto si veda una mini guida di come usarli e con i rispettivi nomi ed è davvero davvero carina e comoda soprattutto secondo me da portare tipo in borsetta ovviamente non sono correttori molto pigmentati o altro ma secondo me sono davvero validi appunto da portare in borsa ed è una cosa davvero molto molto carina e comoda e gli do come voto 6 niente ragazzi questi sono stati i miei correttori e mi piacerebbe molto provare il correttore MAC perché so che è molto valido ma non lo provo sia per il motivo di prezzo e sia perché come vi ho detto sto cercando di utilizzare quelli bio anzi se me ne sapete consigliare uno bio davvero valido e accetto consigli fatemi sapere qual è il vostro correttore preferito e ci vediamo al prossimo video ciao